buongiorno tutte amiche per questo e benvenute sulla mia pagina creativa dunque per questo progetto che avete visto nella copertina utilizziamo un filato molto molto particolare il filato di cui sto parlando è questo come vedete è pelosino e abbastanza sottile io ho deciso di lavorarlo a punto strega con l'uncinetto numero cinque allora nello specifico per questo progetto utilizziamo quindi un uncinetto molto grande per fare questo punto io ho già sto preparando il campione così vi faccio vedere anche il punto quindi per avviare diciamo questo progetto occorre avere una catenella che sia multiplo di 5 io in quello specifico ho fatto 15 punti e ho fatto un giro di maglia bassa che quello che dovrebbe simulare il bordo della mia maglia a questo punto inizio la lavorazione del punto strega quindi crea un'ausola che dovrebbe essere abbastanza larga ampia e costante infilo il dito e passo in mezzo e faccio una catenella come se facesse una catenella dopo di che lavoro un punto basso ripeto il procedimento entro e faccio un altro punto basso allora all'inizio del giro dovrò sempre fare tre motivi quindi passo dentro e punto basso dopo di che si proseguirà sempre con due quindi io ho ottenuto questi tre motivi a questo punto conto 5 catenelle e nella sesta infilo il mio uncinetto poi il difficile è iniziare di questo progetto poi il resto va da sé anche se il filo è un po complicato quindi allargo il punto 1 1 2 a questo punto conto 1 2 3 4 1 2 3 4 e 5 sul sesto punto e lavoro la mia maglia bassa ok ripeto tutto faccio ancora due motivi metto il dito dentro infilo la maglia l'uncinetto nell'interno dell'asola e lavoro una maglia bassa dopodiché faccio ancora lo stesso lavoro tengo il dito in mezzo che mi aiuta lavoro e a questo punto devo fare la maglia bassa puntando mi per l'ultimo motivo che qua ripeto questo filo è un po complicato però il risultato è molto bello e spero di darvi un'idea per fare una maglia veramente veramente particolare all'inizio dobbiamo sempre fare tre motivi quindi faccio il primo metto il dito e chiudo secondo motivo e faccio la maglia bassa terzo motivo e faccio la maglia bassa a questo punto devo andare a puntarmi sulla maglia bassa del quella non agganciata al bordo ma quella diciamo libera che ho fatto in alto deve venire fuori come se fosse un fiorellino ok dopodiché ricomincio sempre con i due motivi uno cerchiamo sempre di tenere il punto regolare anche se con questi fili così diciamo mossi non è proprio necessario essere così così precisi ok ancora uno e due dopo aver fatto qualche giro ma anche solo un paio possiamo pronti per calcolare quello che sarà il nostro campione vi faccio vedere il risultato il risultato è questo questo è come viene il mio punto adesso prendiamo di centimetro e facciamo i calcoli dunque allora io ho misurato il mio campione è il mio campione è pari a 12 centimetri quindi siccome io devo fare una maglia per una taglia 46 ho calcolato e ho visto che la circonferenza dei fianchi perché sarà una maglia a pannello è pari a 102 centimetri quindi 102 diviso 2 fa 51 centimetri ma io voglio lasciare 5 centimetri di diciamo per dare più morbidezza a questo capo perché non so bene la taglia della persona quindi parto da una base di 56 centimetri il calcolo da fare il mio campione adesso vi scrivo tutto il mio campione è 12 centimetri e io devo fare 56 centimetri che è la larghezza del mio campione che è il mio campione sta a 15 catenelle che avevo messo di partenza come 56 centimetri che è la larghezza del pannello che voglio fare io sta ad x quindi faccio 15 per 56 diviso 12 e mi viene 70 quindi queste sono le 70 catenelle lavorando con la mia mano e con l'uncinetto numero 5 sono quelle che devo montare per il mio pannello davanti allora se fossero state 62 64 71 avrei dovuto montare un numero di catenelle come mi ha detto per fare questo tipo di lavorazione multiplo di 5 quindi dovevo scegliere se montarne di meno montare di più caso vuole qui il risultato è proprio tondo giusto preciso come quello che devo che devo realizzare io quindi monto 70 catenelle faccio un giro di maglia bassa e poi inizio con con la lavorazione del pannello dietro e davanti facendo il giro di maglia bassa poi vi faccio vedere come fare adesso lo lavoro anch'io per rifinire i lati e poi unirli per ottenere il maglioncino ok dunque ho finito il mio lavoro e quindi ho fatto ho bordato con un giro di maglia bassa i pannelli in modo da poterli cucire ho cucito le spalle per 15 cm lasciando uno scalfo da 25 dopo di che ho fatto tre giri riprendendo le maglie sulla manica il progetto di questa maglia identico a quella già proposta sul sul mio canale youtube quindi se volete la c'è più il dettaglio di quello di come è stata operata come vedete il filato particolare la fa sembrare veramente veramente una cosa molto molto particolare anche molto elegante se vi è piaciuto il mio tutorial iscrivetevi al canale e per non perdere le prossime pubblicazioni ci saranno tante tante novità con una nuova collaborazione se vi è piaciuto il progetto lasciate un like se volete vedere realizzato qualche c'è qualche cosa che vorreste vedere come si fa vorreste un consiglio ma lasciatemi un messaggio nei commenti e vedrò di rispondermi grazie a tutte